Da Ligni a Piacenza, tutte le fabbriche bloviate, questa è la Piove. A alcuni lati, a Piacenza, la Zenit 80%, l'Eurobox 75%, la CST 70%, la OCME 80%, a Reggio Liglia, la Bredini 90%, la Interpam 90%, la RCF 90%, la Tecno Gas 80%. Gli avvicanti, gli avvicanti che scavano l'autore e le lavoratrici, noi vogliamo parlare di lei sulla partecipazione, basta guardare, basta guardare la città bloccata.